Ciao, sono Monica ad Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio condividere con te il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato questa settimana. L'espressione idiomatica to have a cow oppure to have kittens significa quindi infuriarsi, dare in escandescenza. Come in questa frase di esempio Si è infuriata quando ha realizzato che sua figlia non si trovava nel suo letto. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week e nel mentre ti invito a condividere questo video taggando una persona alla quale credi questa espressione idiomatica sia di interesse. A presto!